Oggi parliamo di futuro. E domani che cosa succederà? Il domani è nel grembo di Giove, dicevano gli antichi. Non lo sappiamo. Però il domani dipende da noi. Molto dipende da noi. A meno che non cada un meteorite sulla Terra, quello che tanti aspettano, dipende soltanto da noi. Noi abbiamo tante possibilità. Rifacciamoci un attimo al passato perché il futuro è solo l'estrapolazione del passato. Perché del passato noi possiamo sapere tutto, anche se molto del passato è stato cancellato. Conosciamo il presente, anche se molto del presente non viene portato alla luce. Ma mettendo insieme quello che sapevamo, quello che sappiamo, possiamo estrapolare e arrivare al futuro. Noi esseri umani attualmente conosciamo tantissimo. Si può accedere a un'innumerevole serie di notizie, di informazioni sia scientifiche che tecniche. La maniera in cui ci muoviamo, telefoniamo, comunichiamo è davvero impressionante. Questo come può aiutarci nel futuro? Ma guardi, è un dato di fatto che noi in questi ultimissimi periodi, in un anno, riusciamo a raccogliere più dati, più informazioni, più conoscenze di quello che avevamo fatto nei due milioni di anni precedenti. Quindi oggi noi veramente siamo invasi dalle nozioni, siamo invasi dalle idee, siamo invasi dai dati, dai dati. E l'importante è saperli adoperare. È chiaro che oggi non è facile sapere adoperare questi dati perché mentre molti anni fa la scienza poteva essere racchiusa in un cervello, in pochissimi cervelli, oggi non è più possibile. Cioè oggi chi conosce una disciplina scientifica, di quella disciplina non conosce altro che una piccola parte.